A distanza di quasi due anni dall'approvazione del progetto complessivo del 2019 per la nuova rotatoria tra le frazioni di Meledo di Sarego e Monticello di Fara, sta per diventare operativo il cantiere stradale, esorgerà a margine dell'ASP 500 tra le vie di comunicazione ad alto flusso dell'Ovest e Passo Vicentino e dell'altezza dell'incrocio ritenuto pericoloso, teatri di incidenti anche croenti in passato. L'opera costerà 350 mila euro con il cantiere effettivo dei lavori in fase di preparazione. È stata richiesta da più parti a suo tempo per migliorare la sicurezza stradale lungo una strada provinciale dove la viabilità è sostenuta e spesso causa luogo di lacrime per la velocità eccessiva. L'incrocio si trova nel territorio di Sarego solo con l'arrivo dell'estate e si potrà procedere con la costruzione della rondò che andrà a risolvere il problema di sicurezza legato all'intersezione a raso presente fino ad oggi. Una serie di preliminari hanno fatto slittare i tempi. Il progetto approvato nel 2019 è finalmente arrivato alla fase di cantiere, dopodiché si sono conclusi i vari interventi di adeguamento sotto servizi di telefonia, fognatura e gasdotto. Alcune problematiche sul posizionamento di quest'ultimo hanno rallentato le attività. Grazie al supporto di Rette Gas si è riusciti a risolvere le difformità emerse, ma l'ultima parola spetta alla provincia. Anche a causa del maltempo prolungato la data di consigna lavori supera gioco forza uno slittamento al momento non ponderabile.